Nell'ultima parte del problema ci viene chiesto di calcolare la massa del blocchetto m minuscolo affinché con un'accelerazione di 0,5 metri al secondo quadrato tutto il sistema aggirà verso destra. Bisogna quindi aumentare la massa del pesetto in modo tale che sia maggiore rispetto a quella del carrello. Dobbiamo stare attenti che la forza di tensione in questo caso cambia perché quando si cambia la massa anche la tensione cambia. Infatti è un tipico errore usare la stessa forza di tensione. Mentre la forza d'attrito adesso è rivolta verso sinistra ma comunque non cambia il suo valore. Stesso procedimento di prima, usiamo la legge di Newton con il sistema. Sulla prima formula ci scriviamo la forza di tensione meno la forza peso parallela meno la forza d'attrito uguale m per a. La forza di tensione è la nostra incognita. Mentre sulla seconda formula m per g, m la nostra incognita, meno ft la nostra incognita uguale a m per a. Andiamo a sostituire con i numeri, forza di tensione incognita, meno 20,7 N, meno 6,7 N, uguale a 5 kg per 0,5 m al secondo quadrato. Questi sono dati che avevamo già da prima. Seconda formula la riscriviamo uguale se non per accelerazione che la sostituiamo con 0,5 m al secondo quadrato. Formula di riduzione, quindi andiamo a togliere la forza di tensione, perché sulla prima è positiva, sulla seconda formula è negativa, quindi abbiamo soltanto l'incognita. Andiamo a fare le somme dei calcoli, quindi ci viene mg meno 27,4 N, uguale a 2,5 N, più m per 0,5 m al secondo quadrato. Portiamo meno 27,4 N a destra, portiamo invece m per 0,5 m al secondo quadrato a sinistra, e quindi viene fuori con l'accoglimento totale di m. M, che moltiplica 9,8 m al secondo quadrato, meno 0,5 m al secondo quadrato, uguale a 29,9 N. Infine, andiamo a svolgere tutti i calcoli, perciò ci viene che m del blocchetto è uguale a 29,9 kg al m al secondo quadrato, m per secondo quadrato, fratto 9,3 m al secondo quadrato, quindi il risultato finale è 3,2 kg, quindi il blocchetto M deve essere di 3,2 kg affinché tutto il sistema sia rivolto, cada verso l'estero.